Io sono entrata in porto nel 1978 con un'impresa di pulizie, questa impresa si occupava della pulizia a banchine, vagoni, specchio acqueo e questa impresa aveva nei vari servizi anche la cosa dei telefoni, cioè cosa vuol dire? Una volta non esistevano, in anni 80 non esistevano i telefoni cellulari, quindi la nave arrivava, faceva la richiesta di un telefono a bordo e noi partivamo con il nostro telefono a rotella, il classico vecchio telefono, con un filo lunghissimo, la presa era in banchina, si attaccava questa presa e si portava il telefono a bordo, poi quando la nave andava via si andava a riprendere e si riportava indietro. E poi nell'81 tutto il personale dell'impresa è stato assorbito, cioè assunto dall'ente porto, di cui ho fatto parte fino al 2009, per sempre fare i servizi di pulizia, fino a che mi hanno affiancato un mio collega che si occupava delle officine del centro di mercanizzazione, che cos'erano? Era personale compagnia portuale e autoente porto, meccanici, elettrauto. Si occupavano della manutenzione dei primi carrelli, dei primi muletti, come si chiamano i muletti, i forklift, e di lì insomma mi sono anche appassionata al lavoro, perché mi piaceva, era un lavoro un po' diverso e ho imparato tutte le varie categorie dei carrelli, tutte queste cose qua. L'impresa dove lavoravo aveva l'incarico di portare alla distruzione le banane andate a male. Cosa succedeva? Venivano sdoganate, poi con dei camion, venivano caricate sui camion e con la finanza al seguito si portavano a Montescarpino alla distruzione. Poi ogni tanto andavo a cercare i miei colleghi delle pulizie, che andavano in giro col motocaro, con la barca, avevamo il barcone per lo specchio acqueo, ecco. Quindi io andavo e chiedevo, sempre chiesto, mi sono sempre informata, perché era un lavoro comunque che mi piaceva, ecco, un lavoro sì da impiegato, perché io ero un'impiegata, però nello stesso tempo un lavoro un po' più dinamico, ecco, che stare seduta a una scrivania tutto il giorno. All'ufficio tecnico eravamo una quindicina, eravamo cinque donne, poi avevo una collega ai mezzi meccanici e poi forse in ferrovia non c'erano ancora le donne e in compagnia erano negli uffici, ecco, le ragazze erano negli uffici. Poi avevamo il bar del porto, allora lì sì, c'erano gestiti anche da donne, però a livello proprio portuale, io mi considero un portuale, tra parentesi, e non ce n'erano, infatti ci conoscevano tutti, cioè, io a volte incontro persone, oh, ciao, come stai? Dico, e questo chi è? Cioè, perché lui mi conosce, però io non conosco lui, o perlomeno lo avrò visto una volta o due, una volta erano veramente tanti, ecco. Il problema era che noi dell'Ente Porto non eravamo molto ben visti dai portuali, ecco, ci chiamavano passacarte, che non facevamo niente, e come succede in tanti altri posti, ecco. Poi, io per quello che mi riguarda, io ho cominciato a lavorare con l'officina, per cui ancora adesso, insomma, ho avuto anche il rispetto, ho litigato anche, perché io poi a un certo punto, pane al pane, però finita la lita andavamo a prenderci il caffè assieme, non c'è mai stato dei rancori, cioè io ho lavorato al zona 10, sono passata alla zona 12 poi, con i mezzi meccanici. Ho sempre avuto dei buoni rapporti, perché non mi sono nemmeno mai tirata indietro nei lavori, anche se non mi toccava, lo facevo lo stesso. Grazie. 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 Grazie.